Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori e quest'oggi siamo qui per un video abbastanza particolare come in ogni video alla fine io vi chiedo sempre di commentarmi qui sotto con scritto che truppe dovrò andare a utilizzare in un prossimo attacco e quest'oggi signori il nostro carissimo amico Edoardo Migliozzi spero di aver detto bene il nome ci ha consigliato un setup di truppe di andare a provare un hog rider minatori quindi proveremo questa tattica e ovviamente invito anche a voi se volete essere menzionati nel prossimo video scrivete qui sotto in descrizione le truppe che dovrò andare a utilizzare io sarò felicissimo di portarvele ma prima di iniziare vi ricordo qui sotto in descrizione c'è il link della mia mezzo wishlist se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato e inoltre c'è il bellissimo sito di coffee dove potete fare una situazione singola o a cadenza mensile se ci chiede quel pezzo ci chiede voi tutto direi che è molto molto onesto la dislessia del caro Ciris quest'oggi è un po' così regà perché è brutto tempo quindi partiamo subitissimo andiamo a vedere il nostro esercito come potete vedere qui dietro a me c'è nascosto 5 goblin che ci serviranno per pulire un pochettino il villaggio una volta attaccato ben 5 curatrici per fare la queen walk regà che dovrebbe essere abbastanza importante 20 minatori 25 domatori regà 3 cure una furia e ben 6 gelo con quelle del clan quindi direi molto onesto nei rinforzi del castello abbiamo messo 2 goblin giusto per riempire i due spazietti che ci rimanevano e abbiamo messo 2 super miner che chi lo sa magari sono la parte cruciale di questo attacco io avevo preparato anche come macchina sedio le trivelle perché volevo provarle secondo me erano interessanti con questa combinazione ma nel clan mi hanno donato un bel dirigibile full quindi io direi regà che proviamo ad utilizzare questo dirigibile per il primo attacco ovviamente abbiamo una portioncina per potenziare questi due che non li abbiamo ancora maxati nelle risorse siamo messi abbastanza bene stiamo per arrivare di nuovo ai 20 milioni regà così possiamo piazzare finalmente finalmente l'ultimo cannone potenziato regà e poi andiamo a sistemare tutto il deficit che c'è nel villaggio quindi porteremo magari le difese un pochino più basse tipo le torri degli arcieri tipo le torri inferno eccetera eccetera a livello giusto ma piano piano ci riusciremo allora andiamo subitissimo a cercare questa partita e vediamo speriamo di trovare un villaggino molto interessante soprattutto con molte risorse io me lo auguro tantissimo regà se no comunque un villaggio facilmente attaccabile il bonus delle tre stelle lo abbiamo già preso quest'oggi quindi non lo avremo però magari se riusciamo ad accumularci un bel milioncino un bel milioncino regà noi schifo non ci fa allora questo è un villaggio bello bello cicciotto cioè a noi in realtà ci piacerebbe anche attaccarlo c'ha un 800.000 800.000 però non lo so regà voglio qualcosa di più succulento qualcosa di più carico magari se troviamo un inattivo regà là sarebbe proprio il top del top del top se no comunque ci accontentiamo di magari 900.000 un milioncino dai che ce la possiamo fare quindi ci vediamo tra pochissimo appena abbiamo trovato il villaggino tattico da attaccare allora ragazzi dopo mille mila skip perché non trovo villaggi per niente regà forse sto troppo alto di trofei o troppo in basso non lo so presumo troppo in alto vorrei provare ad attaccare questo qui che mi sembra abbastanza interessevole interessevole allora io vorrei partire con una bella qui work da questo lato qui sopra regà quindi ci andiamo a piazzare la nostra queen con i nostri cinque curatori belli 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 prepotenti e poi vorrei stare attento alla questione attacco da questo lato penso di sì regà secondo me è la miglior opzione aspettiamo un pochettino che la queen pulisca diciamo questo lato qua in modo che non sia bella è uscita fuori una bomba gigante quella contro i nostri domatori poteva farci del male fisico direi che mi sono scordato ovviamente di utilizzare la pozione ma regà se no non ero ciris se mi ricordavo tutto quanto vorrei andare a piazzare subitissimo le nostre truppe senza perdere troppo tempo e dobbiamo stare attenti che se no ci muoiono male io metterei una bella furia con una bella pozionecina lì dietro i nostri eroi che tardano ad arrivare purtroppo perché ciris se è rincoglionato regà dal pc è un bordello attaccare velocemente però 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 signori noi stiamo abbastanza all'interno del villaggio io vedo qui le mie truppettine e non ho minimamente idea di quante ne siano rimaste ancora in vita perché ovviamente sono minatori regà vanno sotto terra chi lo sa chi lo sa chi lo sa chi lo sa vedremo vedremo i nostri domatori sono implosi come non mai qua stanno a morire tutte le truppe regà s'attacco non è poco andato nel migliore dei modi però 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 signori signori noi abbiamo ancora i 5 goblin che intanto iniziamo magari a piazzarci no ce li piazziamo qua così tutti insieme abbiamo ancora la regina che è full vita full ability quindi possiamo magari sperare che ci giri all'interno del villaggio e magari provare con il prossimo tentativo con una tattica un po' migliore era la prima volta che utilizzavo queste truppe quindi non sapevo come si sarebbero comportate vediamo un po' se riusciamo a fa qualcosa di interessante regà ovviamente non è questo il caso questo attacco è andato una merda però vabbè ci portiamo via le ultime risorsine che riusciamo a rubarci con la nostra queen anzi facciamo così facciamo così siccome questo attacco presumo che sia stato no un fail di più di più ci prepariamo il prossimo attacco intanto metto ad attestare di nuovo le stesse truppe perché così ci facciamo un terzo attacco magari se riusciamo a fare in tempo e soprattutto dobbiamo stare attenti regà dobbiamo stare attenti io qui ci vorrei mettere invece che i super miner vorrei richiedere i domatori che secondo me regà ci potrebbero portare più soddisfations ce ne stanno 10 10 sono interessanti sono molto interessanti e magari provare a a fare di meglio ovviamente le truppe sono le stesse ci vediamo tra pochissimi appena riesco a farmi mandare delle truppettine tattiche nel castello bene signori eccoci qui ritornati abbiamo tutte le nostre truppettine del caso un dirigibile livello 3 questa volta non è maxato ma va bene va bene andiamo subitissimo regà a cercare un nuovo villagino da attaccare ovviamente dobbiamo stare molto molto più attenti prima siamo partiti abbastanza disorganizzati questa volta cerchiamo di fare meglio perché secondo me queste truppe regà potrebbero regalarci delle belle soddisfazioni io ho visto vari video dove le utilizzavano e regà so fortissime questa combo dovrebbe essere molto molto forte ovviamente bisogna vedere se il ciris riesce a utilizzarla chi lo sa chi lo sa questa connessione è una merda un po' di problemi ci vediamo appena troviamo un villaggino un po' interessevole ok signori eccoci qui nel villaggino che ci potrebbe interessare ovviamente questa combinazione di truppi io l'ho visto utilizzare per attaccare dei th13 th12 forse qualche th14 ovviamente noi siamo in th15 th16 è un pochettino più complicato magari riuscire a fare un attacco interessante però noi ci proveremo lo stesso allora partiamo come al solito con la nostra queen walk signori questa volta dobbiamo stare molto molto attenti alla direzione da cui vogliamo partire con il nostro attacco io direi che possiamo partire da questa zona in modo che andiamo subito sulla eagle ma prima di piazzare tutte le nostre truppe io vorrei iniziare a piazzare i nostri eroi che raga secondo me è la tattica migliore vai piazziamo tutti i nostri hog rider subito dietro via con i minatori raga subito potenziamo utilizziamo le abilità dei nostri eroi perché sennò ci esplodono male e stiamo attenti che siamo arrivati al centro del villagino quindi una piccola giallo qui e un'altra qui raga abilità del sorvegliante siamo all'interno del villaggio nel modo migliore possibile secondo me raga dobbiamo stare semplicemente attenti a non farci morire le nostre truppe che sono tantissime sono tantissime io vorrei mettere una bella pozione qui madonna la scaglia pietre ci fa del male seriamente fisico ma proprio pesante quindi dobbiamo stare attenti raga la nostra queen è morta io la devo gelare di nuovo perché se no qua ci fanno malissimo questo attacco pare che sta andando un pochettino meglio geliamo subito bello l'abbiamo preso l'abbiamo preso abbiamo ancora delle truppe in vita dai minatori spaccate quella scaglia pietre che ci fa del male serio e potrei andare a piazzare intanto i nostri piccoli goblini goblini va bene in questa zona in modo che rubiamo anche un po' di risorsine che rimangono al di fuori che truppe ci sono rimaste in vita non ne ho idea un minatore sicuro penso solo quello quindi quindi ok forte come tattica ma 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 difficilizzare su i th un pochettino più alti quindi th 16 th 15 sono un po' a rischio sono un po' a rischio e c'è una bella difficoltà le nostre truppe vediamo un po' quanto manca per essere pronte mancano 15 minuti 15 minuti andiamo a potenziare velocemente così in modo che possiamo provare a fare un altro attacchino magico e sperare che ovviamente vada un pochettino meglio io adesso aspetterò un secondo per richiedere di nuovo le truppe del clan e ci vediamo tra pochissimo con il nuovo attacco abbiamo preso anche una pozione degli eroi perfetto regà questa ci andiamo di zà subitissimo così proviamo a vedere proprio tutto full maxed se riusciamo a fare meglio ovviamente io mi auguro di sì nel mentre comunque ci dobbiamo portare a casa un po' di risorsine che schifo non ci fanno ci vediamo tra poco bene signori le nostre truppetine sono tutte quante pronte il castello è pieno proviamo di nuovo regà ovviamente il ciris questa mattina è un po' rincognito perché ho staccato dalla notte sto registrando questo video esattamente oggi sabato 9 che uscirà alle 14 30 per voi quindi io mi auguro che lo stiate vedendo tutti quanti subito perché regà è interessevole questo villaggio qui ha uno scatafascio di risorse ma è un villaggio molto molto grande non lo so se riusciremo ad attaccarlo ma io ci provo ero ovviamente per quanto sono rincoglionito mi sono scordato ogni volta di potenziare le truppe il nostro esercito per avere tutto maxato e badate badate che la differenza c'è signori la differenza c'è allora cosa possiamo andare a fare da dove possiamo attaccare noi attaccheremo da questo lato ci interessa poco in realtà regà fare le tre stelle a me non interessa tanto le tre stelle interessa più che altro fare tante 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 belle risorse quindi noi attacchiamo da questo lato e siamo un pochettino attenti alla nostra queen perché la queen walk è la parte più importante di questo attacco io devo attivare già l'abilità regà madonna questa queen questa queen non ci sta regalando le emozioni che noi vogliamo vai diretti così regà possiamo partire con i nostri domatori maxed e dietro subito subito tutti i minatori vai con le varie cosettine io direi che possiamo mettere una bella furia qua una bella cura qui e un'altra cura di qua che ci stanno per esplodere fortuna che ce ne siamo accorti fortuna che ce ne siamo accorti stiamo attenti a queste difese qui nuove che ci potrebbero fare del male serio allora attiviamo l'abilità del sorvegliante regà siamo arrivati verso il municipio e qui e qui la situazione incomincia ad essere un po' più difficoltosa un pochettino più difficoltosa ma in realtà questa attacco sta andando più bene del previsto peccato ci servirà un'altra cura forse la la quarta pozione è meglio piazzarci una bella cura piuttosto che la furia piuttosto che la furia però questo è un ottimo metodo regà ovviamente vanno a valutare le varie truppe che potrebbero servirci per attacco per per perfezionarlo io direi che questo 100% pulitissimo pulitissimo ce lo siamo portati a casa attiviamo l'abilità del re barbaro giusto per fare le ultime distruzioni del caso regà abbiamo ancora i minatori in vita guardate quanti ne sono rimasti bello 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 abbiamo fatto un signore attacchino devo dire con un milioncino ce lo siamo portati a casa 850 mila di elisir regà le risorse volano come non mai e vi devo dire che quest'ultimo attacco mi ha fatto capire meglio le potenzialità di queste di questa combinazione di queste truppe quindi signori io spero che voi abbiate visto il video fino alla fine perché nell'ultimo attacco abbiamo portato una piccola perlina non male non male direi molto interessante magari perfezionerò un pochettino il metodo di attacco con queste truppe perché era la prima volta che le utilizzavo non le avevo mai viste utilizzare quindi regà ce posta magari qualche piccolo sbaglio vi invito a lasciare un bel like di supporto un commento con scritto quale altre truppe volete vedere nei prossimi video soprattutto se volete rivedere anche queste magari in un nuovo video dove ho migliorato un pochettino la tecnica c'è sta regà è pulitissima come cosa iscrivetevi al canale importantissimo siamo quasi arrivati a 2500 manca un pelo un pelo un pelo raggiungiamo questo traguardino insieme condividete il video con i vostri amici ancora più importante noi ci vediamo alla prossima vai la rega ciao